Impegno casalingo per la Turris, che ospita l'Americo Ligori, il Catanzaro, nel match valido per la 33esima giornata del girone C di Serie C. Dopo il turno di riposo, la squadra di Bruno Caneo cercherà i tre punti per dare continuità alla vittoria ottenuta nel turno precedente contro il Catania per 1-0. Non un obiettivo semplice dal momento in cui, allo stadio di Torre del Greco, arriva la terza forza del campionato, a quota 54 punti. Al momento i corallini sono a più 6 sulla Vibonese, che staziona al 16esimo posto, il primo che condanna la zona play-out. La precedente vittoria, che ha interrotto la serie negativa di tre sconfitte consecutive, dà slancio ai praduni di casa, che possono contare anche sul nazionale Bojciuk. Il Moldavo ha rifiutato, di comune accordo con l'enturace della società, la convocazione nazionale per le gare contro isole Faroe, Danimarca ed Israele. La società, si legge nel comunicato stampa, ringrazia Aleksandru Bojciuk per il senso di appartenenza e responsabilità dimostrato nell'occasione. Grande ex del match sarà l'attaccante Felice Vacuo, che oggi gioca nella compagine calabrese. Il classe 82, prodotto dalle giovanili della Turris e con l'attivo ben 200 gol in carriera tra i professionisti, ha giocato all'ombra del Vesuvio nella stagione 2000-2001. A dirigere il match sarà Luca Angelucci della sezione Aia di Fioligno, mentre a coeduvarlo saranno gli assistenti Alberto Zampese, Lucia Abruzzese e il quarto uomo Fabio Natilla. I pronostici della vigilia danno per ragioni di classifica il leggero vantaggio il Catanzaro, ma la Turris cercherà di guassare i piani dei calabresi. Spesso in questo campionato i corallini hanno fatto delle prestazioni importanti contro le squadre di alta classifica. Servirà sicuramente la Turris vista contro il Catania per sperare in una nuova impresa. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS